Questa situazione, rispagnando sul costo del personale, ha spezzato la catena della gentilità dell'appalto. Ma c'è un altro problema? Che non è un appalto ma è un trasferimento dell'appalto. Lui si guarda perché lui si capisce il tecnicismo. È tecnicismo. Allora, praticamente cambia appalto significa, va via quest'azienda, si ventra in altra, il personale transita con le stesse condizioni, con lo stesso salario, con lo stesso livello, con tutto ciò che avevano nell'azienda dove lavoravano. Transita in un'altra azienda, questo è un cambio appalto.